Verificare, monitorare e assistere in via prioritaria persone in situazioni di estrema fragilità, solitudine e in condizione di abbandono sociale e relazionale. E questo è l'obiettivo del piano di emergenza a freddo, che parte da oggi e durerà fino al 30 marzo, previsto nel servizio di pronto intervento sociale nell'ambito territoriale di Trani e Biceglie. Il piano è stato finanziato attraverso il Prince e il Fondo di Povertà. A beneficiare del servizio per quest'anno saranno 50 persone, 25 per ciascun comune, che saranno individuate dai due servizi sociali professionali. In particolare verranno inviate al pronto intervento sociale i nominativi dei nuclei beneficiari e le azioni da mettere in atto per ciascun nucleo familiare. Sarà svolto il monitoraggio telefonico e domiciliare, quindi di sorveglianza attiva, oltre alla distribuzione, a seconda delle indicazioni dei servizi sociali, di pasti e bevande calde, coperte, abiti o altri kit. Le prestazioni saranno coordinate dalla Società Cooperativa Sociale, Promozione Sociale e Solidarietà ed effettuate dalla Croce Rossa di Andrea e dall'Associazione Trani Soccorso, partner del progetto. A queste misure da quest'anno si aggiunge anche la presenza dell'unità di strada dal mercoledì alla domenica nelle ore serali, che provvederà al monitoraggio e alla distribuzione di coperte o bevande calde per le persone senza fissa dimora dei due territori.